Salve a tutti cari amici di EvoSmart.it, quest'oggi grazie a TechTicino vi posso raccontare quelle che sono le caratteristiche tecniche di LG V40 ThinQ. In questo video vi voglio raccontare quelli che sono gli aspetti positivi di questo LG V40, ma sarò anche molto critico perché secondo me un telefono del genere a febbraio 2019 LG non se lo può assolutamente permettere. Perché? Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale YouTube se ancora non l'aveste fatto e lanciamo subito la nostra sigla! All'interno del nostro canale YouTube abbiamo fatto una diretta dedicata a questo smartphone e abbiamo elencato tutti gli aspetti positivi, gli aspetti negativi e soprattutto abbiamo visto tutte le informazioni tecniche del telefono. Quindi vi invito a guardare quella diretta, visto che dura più di 40 minuti e abbiamo elencato tutte le cose riguardanti LG V40. LG V40 ThinQ che secondo me è costruito veramente bene, oramai LG ha sicuramente proposto smartphone sul mercato con un'ottima costruzione, anche girandolo tra le mani è sicuramente un ottimo prodotto. Vedete le tre fotocamere nella parte posteriore, un sensore fingerprint per sbloccare lo smartphone tramite impronta digitale nella parte retro, quindi non abbiamo un sensore frontale sotto il display, cosa che in tanti avete sottoneleato. Io onestamente preferisco questa tipologia di sensore. Una parte inferiore dove non manca veramente niente, ritroviamo addirittura il jack da 3,5, cosa che tante aziende hanno tolto all'interno dei propri smartphone. Una porta Type-C, uno speaker, un primo microfono, abbiamo il boombox all'interno di questo telefono, veramente incredibile l'audio visto che offre anche un DAC dedicato per l'ascolto con cuffie cablate, pazzesco, veramente un'ottima implementazione. L'ingresso della sim, nonché della memoria espandibile tramite microSD, abbiamo anche un tasto power on e power off poco più sopra. Nella parte sinistra invece troviamo il bilanciare del volume e un tasto dedicato per l'assistente Google. Nella parte superiore troviamo il secondo microfono per la rimozione dei frusci e dei rumori ambientali, una parte frontale andandovi a sbloccare il pannello, pannello targato LG, un plastic colored, si vede molto bene sotto la luce diretta del sole. Abbiamo due fotocamere nella parte frontale, si ritrova il grandangolo per scattare le nostre fotografie e poi vedete il notch nella parte superiore. Comunque sia, devo dire, l'aspetto di questo B40 ThinQ davvero molto gradevole, unica pecca, secondo me scivola davvero davvero tanto. Ci sono due aspetti di questo smartphone che io durante la diretta ho sottolineato. Voglio vedere quanto dura la batteria, 3300 mAh potrebbero essere pochi visto l'elevata densità di pixel su questo pannello. E soprattutto ero molto molto titubante per quanto riguarda ricezione parte telefonica. Allora, ad oggi questo smartphone secondo me prende bene, riceve bene e anche l'audio in capsula l'ho trovato molto buono durante la conversazione con l'interlocutore. Cosa anche che mi ha sorpreso onestamente la batteria. Dopo circa due o tre cicli di assestamento dove non durava niente, l'autonomia si è assestata e sono riuscito ad arrivare tranquillamente a sera con circa sei ore di schermo su questo LG ThinQ. Quindi, comunque sia, un'ottima autonomia visti 3300 mAh e questo mi fa sperare. Voglio però anche parlarvi in maniera molto onesta e sincera. Allora, un LG V40 ThinQ che LG propone solo con team a 899 euro e qui sarò molto critico, vi avverto, secondo me non può esistere. Perché non può esistere? Perché secondo me ad oggi, quindi febbraio 2019, proporre un telefono con Snapdragon 845 e quindi esci adesso sul mercato, secondo me è un fattore principale. Adesso al Mobile World Congress di Barcellona verranno presentati i nuovi smartphone con lo Snapdragon 855 e voi comprereste ad oggi uno Snapdragon 845 a 900 euro? Secondo me assolutamente no. E poi una cosa che a me non è assolutamente piaciuta e ve l'ho anche detto all'interno del video, se entriamo nelle informazioni, quindi nelle info sul telefono e andiamo a vedere le informazioni sul software, questo smartphone esce di fabbrica, quindi out of the box, con versione d'Android 8.1, quindi non Pi ma Oreo, vi rendete conto, con patch di sicurezza di dicembre 2018. Quindi secondo me questo è un altro fattore da sottolineare in negativo perché secondo noi un prodotto appena uscito sul mercato deve per forza di cose avere la versione ultima di Android. E poi LG, non sei un'azienda che comunque hai un'anomea buona lato aggiornamenti, ci sono smartphone che sono rimasti lì, fermi, abbandonati nel tempo. Questa cosa a noi non piace e non l'abbiamo perdonata all'interno di questa review. Poi per carità, quando andiamo ad aprire la fotocamera, vedete questa interfaccia, vedete finalmente la possibilità di utilizzare tre ottiche, vedete un'ottica più zoomata, un'ottica più grandangolare, una super ottica grandangolare, fantastica questa funzione, e poi il manuale, veramente il manuale di questo smartphone è tra i migliori sul mercato, soprattutto lato video. Mi sono innamorato di girare video con questo smartphone, 4K 60 frame stabilizzati, veramente una fotocamera performante, una videocamera performante. Gli unici nei si possono trovare durante le foto notturne, ho visto smartphone scattare foto in maniera migliore, ad esempio il mio Google Pixel 3 XL, ma anche Mate 20 Pro, grazie alla sua modalità notturna. Questo LG V40 ThinQ in modalità notturna si ferma onestamente a un voto di 7, non aumenterei il tutto. Mentre per quanto riguarda la possibilità di girare video, come vi dicevo prima, in 4K a 60 frame, e la possibilità di scattare foto con queste ottiche, secondo me sono dei plus da non sottovalutare. C'è da dire però anche una cosa, e qui LG si mangia le mani in casa, perché avendo fatto uscire questo telefono tanto tempo dopo, è stato presentato nel 2018, me lo metti fuori sul mercato quattro mesi dopo, abbiamo un LG G7, che ha boombox, che ha comunque queste funzioni, che ha comunque un design anche molto simile a questo V40, magari non avrà tre fotocamere, ma ha sempre un'ottica grandangolare, costa in offerta sull'e-store ThinQ a 299€, oppure Amazon, il V30, ancora un ottimo smartphone, 319€, ecco perché tutte le mie criticità lato V40. Un prodotto che vi ripeto, ringrazio Tech Ticino che me l'ha fatto provare, lui lo vende leggermente a meno, poi troverete il link qua sotto in descrizione. Comunque, LG V40, ThinQ, un ottimo prodotto, ci mancherebbe altro, ma che secondo me ad oggi, quindi a febbraio 2019, con il prezzo a cui viene venduto, non può assolutamente esistere sul mercato, perché la concorrenza è spietata, ed è spietata proprio anche in casa LG. Voglio sapere però la vostra opinione, la voglio sapere qua sotto, nel box dei commenti. Tutto lo staff di EvoSmart.it, vi ringrazio, vi saluto e ci sentiamo ovviamente nei prossimi video.